Una buona serata dal Tantam Notizie da Imperia TV, cominciamo purtroppo dalla cronaca, una nuova tragedia lungo l'Aurelia Bordighiera in località Madonna della Ruota, dove la scorsa settimana aveva perso la vita un uomo di 54 anni, ebbene oggi purtroppo in un altro scontro con un bus sono morte due persone, marito e moglie, diversi anche i feriti sul mezzo pubblico, in particolare in un servizio. E di due morti e diversi feriti per fortuna non gravi il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo l'Aurelia Bordighiera in località Madonna della Ruota. A perdere la vita sono stati Bruno Asciutto, 61 anni, e la moglie Germana Andretto di 59 anni che viaggiavano in auto quando si sono scontrati frontalmente contro un autobus di linea della riviera Trasporti, un incidente in tutto simile a un altro avvenuto nella stessa zona la settimana scorsa e costata la vita a un uomo di 54 anni. Feriti l'autista e alcuni passeggeri del bus. Per permettere le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco, 118 e ambulanze, l'Aurelia è rimasta chiusa al traffico diverse ore e i veicoli sono stati fatti deviare in autostrada a Bordighiera e ospedaletti con coda ai caselli. Carabinieri e Polizia Municipale stanno ora cercando di ricostruire le cause della tragedia che sembra comunque essere imputabile esclusivamente al conducente dell'auto. Bruno Asciutto, commerciante e membro della protezione civile di Valle Crosia, e la moglie erano molto conosciuti e stimati nella zona e la notizia della tragedia si è subito diffusa destando profondo cordoglio. Restiamo sempre nella cronaca, è stato infatti di nuovo emanato dalla regione il decreto per lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, una decisione legata alle condizioni climatiche ma anche agli ultimi incendi che si sono verificati proprio nell'imperiese. Ne parliamo in un altro servizio. Temperature elevate, mancanza di precipitazioni e presenza di vento, ecco gli elementi principali del clima che hanno portato all'emanazione da parte della regione di un nuovo decreto di stato di grave pericolosità per incendi boschivi con il conseguente divieto di accendere fuochi e utilizzare motori a scoppio in prossimità di zone boschive. Il divieto è valido a partire da oggi fino a una successiva revoca che sarà disposta soltanto quando le condizioni meteo muteranno in modo tale da non far ritenere elevato il rischio incendi. La decisione è stata assunta anche alla luce dei recenti incendi che si sono sviluppati in particolare imperia a seguito di fuochi di pulitura sfuggiti al controllo che in alcuni casi hanno portato le fiamme anche pericolosamente vicino alle abitazioni con il conseguente intervento di vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed elicotteri del servizio regionale antincendio boschivo. Sempre in merito al problema degli incendi boschivi è intervenuto ai nostri microfoni anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco d'imperia Corrado Romano. Considerato che il divieto di accendere fuochi vale per le zone limitrofe al boscovo, il comandante ha fatto appello al buonsenso, alla necessità di fare molta attenzione a tutela della pubblica incolumità e delle abitazioni. Sentiamo. Ingegnere Romano, ormai i vigili del fuoco devono occuparsi anche di incendi boschivi e abbiamo visto che insomma non è solo l'estate il pericolo, anche se sembra che siamo ancora quasi in periodo estivo, si può andare al mare alla spiaggia. Noi dobbiamo ricordarci che queste parti brucia anche d'inverno, bisogna fare attenzione. Quei rischi ci sono perché basta che ci sia una giornata un po' ventosa e laddove nella combustione degli scarti vegetali non si adottano opportune cautele, sicuramente può scappare l'incendio, interessare sterpaglie e vegetazione secca e quindi diventare di grandi proporzioni. Quindi occorre avere sempre massima cautela quando si prevede di bruciare gli scarti vegetali ed evitare che alcune scintille o materiale in combustione possa coinvolgere la zona circostante o addirittura le case. Anche perché le case sono sempre più vicino a zone boschive, di oliveti, magari a zone anche di campagne abbandonate. Infatti è questo il problema perché purtroppo non sempre le zone perimetrali e le abitazioni sono mantenute pulite, ma ci sono spesso sterpaglie secche che in poco tempo se innescate possono produrre significativi incendi che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone oppure anche distruggere delle case. Quindi bisogna avere molta attenzione e cautela, non sottovalutare mai quello che si fa perché una distrazione può essere fatale e quindi creare delle conseguenze molto gravi per chi sfortunatamente rimane esposto a un incendio del genere. Quindi bisogna avere molta attenzione. Prosegue a Genova il lavoro dei vigili del fuoco relativo all'emergenza per il ponte Morandi. Sezioni specializzate stanno infatti collaborando alle indagini con accertamenti tecnici. Vediamo il servizio. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco legato al crollo di ponte Morandi a Genova. In particolare il Niat, nucleo investigativo antincendi, sta collaborando con i consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica al repertamento, catalogazione e sistemazione in un capannone delle varie porzioni di ponte che hanno interesse tecnico-giudiziario. Il TAS, sezione specializzata nella topografia applicata al soccorso, provvede invece a georeferenziare i reperti prima della loro sistemazione nel magazzino. I piloti dei droni realizzano le immagini aeree del sito e predispongono al computer mappe 3D dello scenario al fine di agevolare rilievi e accertamenti. Ulteriore fronte di lavoro è quello che vede i vigili del fuoco impegnati nell'attività di installazione dei sensori sulle parti del ponte ancora non crollate al fine della verifica da parte degli enti competenti della possibilità di operare attività di recupero dei beni nelle abitazioni e aziende che sono state evacuate nella zona rossa, individuata da un'apposita ordinanza di protezione civile. E' battaglia politica sul futuro della piaggio di Vilanova d'Albenga, critiche sulle incertezze e la mancanza di decisioni da parte del governo circa le commesse pubbliche per i droni sono state sollevate dagli esponenti liguri del Partito Democratico. In ballo ci sono 1.300 posti di lavoro fra Vilanova e Genova. Ne parliamo ancora in un servizio firmato. La maggioranza formata da Lega e 5 Stelle deve fare chiarezza al proprio interno e prendere una decisione in tempi brevi in merito all'acquisto dei droni P2HH di Piaggio. Lo evidenziano in una nota congiunta gli esponenti del PD Vito Vattuone, senatore e segretario Ligure, Giovanni Lunardon, capogruppo in regione, Alberto Pandolfo, segretario PD Genova e Giacomo Vigliercio, segretario del PD di Savona. Gli esponenti del Partito Democratico sottolinano la necessità di sbloccare in fretta questa commessa da 766 milioni di euro, in quanto sono mesi che la situazione è bloccata e il rischio è che 1.300 lavoratori degli stabilimenti Piaggio Aerospace di Genova e Villanova perdano il posto di lavoro. Della questione si discuterà a fine mese anche in Consiglio regionale a seguito di un ordine del giorno presentato dal gruppo del PD che confide in un'approvazione unanime del documento a sostegno dei lavoratori Piaggio. Ora una breve pausa per noi, poi altre notizie fra poco. Riprendiamo dalla politica, il parlamentare della Lega Flavio Di Muro respinge le polemiche circa i finanziamenti per la pista ciclabile di Imperia e spiega le motivazioni che hanno portato il governo a rivedere la questione. Di Muro ai nostri microfoni ha garantito il suo impegno a fianco dei sindaci per risolvere il problema. Ascoltiamo le parole di Di Muro. Onorevole Di Muro, fondi per la ciclabile sì, fondi per la ciclabile no, questo bando periferie è diventato una chimera, un sogno o c'è qualcosa di concreto che si sta muovendo per poterli far arrivare prima o dopo questi fondi? È molto semplice, al netto delle polemiche il governo e il Parlamento, tra l'altro l'unanimità con un emendamento al Senato, ha deciso di prorogare i termini per la progettazione di tanti comuni, tra cui Imperia, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale che diceva, che è stato un errore la procedura giuridica che è stata operata per arrivare ad assegnare queste risorse. Noi vogliamo salvaguardare queste progettualità, quindi anche quella del Comune di Imperia, non entrare nel merito della volontà che il Comune ha messo in atto con l'amministrazione di prima e con l'attuale in continuità sulla progettazione della pista ciclabile, la riqualificazione del parco urbano, il Comune spetta andare avanti e seguire i progetti, a noi spetta garantire l'arrivo di questi fondi, c'è un impegno preciso del Presidente del Consiglio, Conte, in un prossimo provvedimento di mettere le risorse, però mi spiace dirlo, abbiamo dovuto sanare un errore della precedente legislatura, o meglio del precedente governo a guida partito democratico, proprio nell'interesse dei cittadini che beneficiano di queste opere, dei comuni tra cui quello di Imperia, non volevamo mettere nell'imbarazzo Giunta, Consiglio e dirigenti nel firmare atti illegittimi, ci siamo presi del tempo per fare gli atti presupposti e per dare successivamente le risorse e portare avanti queste progettualità. Il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, parla anche di recuperare non solo il sedime ferroviario, ma di ottenere anche le stazioni, sono la parte più importante, le vecchie stazioni dismesse dal punto di vista economico, potrebbero fruttare anche soldi da investire proprio sulla ciclabile, lei che dice? Ma sì, si può partire da questo ragionamento di Imperia e allargarlo a tutti gli altri comuni della provincia. Io come parlamentare del territorio, se i comuni sono d'accordo, mi impegno in prima persona nell'aprire un tavolo di confronto con le ferrovie per capire tutti i beni immobili, tanti anche fattiscenti e tutte le varie arterie che possono essere utilizzate per la viabilità delle varie cittadine e vedere di fare finalmente una mappatura di cosa abbiamo lasciato in area in provincia di Imperia. Poi a quel punto è chiaro che ogni comune farà le sue proposte con RFI, però è importante anche in un'ottica di progettazione complessiva delle opere infrastrutturali nel nostro estremo ponente avere finalmente una mappatura di aree e immobili. Prenderanno il via lunedì a Imperia gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua in vasi da vegetazione e detriti. Lo ha disposto con un'ordinanza al sindaco Claudio Scaiola, in particolare in un servizio. Il sindaco di Imperia Claudio Scaiola ha firmato un'ordinanza per disporre l'avvio di interventi di pulitura dei corsi d'acqua del capoluogo, da tempo invasi da vegetazione e detriti. Gli interventi prenderanno il via lunedì e saranno divisi in tre lotti. A Uneglia riguarderanno Torrente Impero, Rio Santa Lucia, Rio Legoni, Rio Liveto, Rio Panegai, Rio Baitè. A Caramagna al Torrente Caramagna, Rio Ortallo, Rio San Benedetto, Rio Vasi, a Rio Orti, Rio Palmoriere, Rio Ricci e al Prino, il Torrente Prino, Rio Barbarossa e Rio Ciappa. Gli importi di progetto comprensivi di IVA sono di circa 48 mila euro per lotto per un investimento totale di oltre 145 mila euro. Risorse reperite tutte all'interno del bilancio del Comune. In programma la rimozione dei rifiuti solidi, dei detriti, il taglio della vegetazione di ostacolo alle piene e il ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza di ponti e tratti tombinati. Ad eseguire i lavori saranno la Orengo Costruzioni SRL, l'Edilmac e la Badessi Luigia SRL. Intanto vanno avanti anche i lavori di pulizia dei tombini. Dopo l'inaugurazione del villaggio avvenuta ieri sera, preso il via oggi a Sanremo, l'Olympic Triathlon. La kermesse sportiva si concluderà domani. Vi prendono parte oltre mille atleti. Vediamo. Entrato nel vivo oggi il Porto Sole SRL, l'Olympic Triathlon kermesse sportiva che si concluderà domani e che al suo interno comprende il campionato italiano dei triathlon giovani e la Coppa delle Regioni. Migliaia le presenze nella città dei fiori per questa manifestazione sportiva, giunta la sua diciassettesima edizione e oltre mille gli atleti partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia per quanto riguarda le gare giovanili e anche da Svizzera, Francia, Brasile, Croazia, Serbia, Inghilterra e Olanda per quanto riguarda la gara su distanza olimpica che tra l'altro assegnerà anche i titoli regionali. L'evento è iniziato ieri con l'inaugurazione del bilancio dello sport all'interno di Porto Sole. In nuoto si svolge nello specchio acqueo antistante i bagni Morgana mentre il percorso ciclistico si snoda per i primi 18 chilometri sulla pista ciclopedonale del parco costiera Riviera dei Fiori sino a San Lorenzo al Mare, poi in missione sull'Aurelia per ripercorrere gli ultimi 24 chilometri della Milano Sanremo affrontando il Cipressa e il Poggio. Sanremo taggia Rivaligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costa Linera e San Lorenzo al Mare, i comuni attraversati da questa spettacolare frazione di gare. Il percorso podistico si sviluppa invece all'interno di Porto Sole. Nicola Bolaffi con il romanzo La sottile armonia degli opposti e Mauro Mazza con Il destino del Papa Russo sono i vincitori delle principali sezioni del premio nazionale Casino di Sanremo Antonio Semeria. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera nel teatro della Casa da Gioco. Vediamo. Mauro Mazza torna a Sanremo questa volta per un premio importante con il suo libro Il destino del Papa Russo. Di che cosa parla? È un romanzo, è un romanzo non essendo io, un romanziere puro, è un romanzo che è radicato, diciamo, ha le premesse nella realtà, realtà del futuro, perché il romanzo comincia con la morte di Papa Francesco, ovviamente è una cosa che serve ad allungare la vita, come si fa in queste case. Il romanzo comincia immaginando la Chiesa dopo Bergoglio con la scelta originale di un Papa diverso, un Papa che non è cardinale, che non è dentro il conclave e quindi una scena molto importante nel racconto è l'emozione di questo vescovo che vive a San Pietroburgo, russo ma cattolico ovviamente, che viene convocato dal conclave senza sapere perché, perché non si può dire che abbiamo scelto per diventare vescovo di Roma. Però lui ha un ricordo che non dico adesso, che capisce che quella è la chiamata e nella sua storia personale c'è un passaggio a Fatima che lui riaffiora alla mente e capisce che è la chiamata che non si aspettava e quindi diventa Papa e compie un tragitto molto forte, molto importante, tanto forte, tanto importante che chi non vuole bene la Chiesa, chi la osteggia, chi la combatte, fate tutto per fermarlo. Oggi è una giornata particolarmente emozionante per lei, non solo per il premio ma anche perché è tornato a Sanremo. Sono tornato a Sanremo, sono qui al Casinò dove per tre anni, nel 2010, 11 e 12, da direttore di Rai Uno, ho lanciato il festival a gennaio qui con la Clerici e due volte con Gianni Morandi. Sono tornato in un albergo che mi ha ospitato in quei tre anni e la signora era dispiaciuta perché la stanza che era per me era occupata, non ho potuto darmela. Ho fatto due passi fino all'Ariston e mia moglie ha fatto il selfie con l'Ariston dietro. È anche divertente e dolce perché tra i ricordi più cari che ho dei tre anni e mezzo di direttore di Rai Uno, le tre regioni del festival sono tra i ricordi più belli. Nicola Bolaffi, allora, questo premio stupendo, meraviglioso al Casinò di Sanremo con il suo romanzo La sottile armonia degli opposti. Di che cosa parla? Sono molto felice di essere qui innanzitutto perché è un riconoscimento per questo libro che è uscito l'anno scorso e quindi diciamo che per questo libro è un po' una consacrazione questo premio e per quanto mi riguarda sono molto contento. È un romanzo un po' particolare nel senso che è sicuramente un romanzo di formazione, però è una storia di amore, quella tra Otto e Greta, ma tutta la storia però è intervallata anche da una favola che è veramente strettamente connessa al testo e solo alla fine si capirà come mai il mondo onirico, questo mondo diciamo fiabesco che appare nelle sembianze del numero 8 e della lettera B è veramente interconnessa alla storia molto anche terrena che capita ai due protagonisti che dovranno superare un sacco di vicissitudini. A chi consiglia di leggerlo? Penso che sia un libro adatto dai 16-17 anni in su, forse prima sono affrontati di argomenti un po' troppo forti per un ragazzo di prima o seconda liceo, però invece ragazzi di quinta liceo, di quarta, so che l'hanno amato, alcuni l'hanno divorato proprio perché vengono affrontate anche delle tematiche che capitano durante l'adolescenza nelle quali i ragazzi si ritrovano e forse riescono anche a poterne parlare di queste cose che possono capitare. Si aspettava di vincere la sezione più importante? No, assolutamente perché è totalmente inaspettato, quindi è un bellissimo regalo che mi rifà il casino di Sanremo e la giuria, quindi no, assolutamente. Adesso Riviera 20, poi le notizie dell'autostrada dei Fiori e quindi il quadro meteo. Grazie a tutti! Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona-Confine di Stato, direzione Italia carieggiata a sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carieggiata chiusa con doppio senso sulla carieggiata opposta per rifacimento, giunti di dilatazione, viadotto, poi Texelli dal 24 settembre al 28 settembre. Questo è il quadro meteorologico di Arpal Meteo Liguria. Domani, domenica 23 settembre, al mattino cielo in prevalenza soleggiato a Ponente, nuvolosità irregolare in progressivo diradamento sul centro Levante. Nel corso del pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità per l'instaurarsi di un flusso meridionale nei bassi strati che può portare qualche debole precipitazione in serata sul centro Ponente. Umidità su valori medio-alti, venti fra deboli e moderati a prevalente regime di brezza fino a metà giornata dai quadranti meridionali dal pomeriggio. Mare inizialmente mosso in calo a partire da Ponente fino a poco mosso ovunque dal pomeriggio. Dopodomani lunedì 24 settembre, nelle prime ore nuvolosità irregolare per addensamenti nei bassi strati più consistenti sul centro Levante, anche associati a deboli piovaschi. Dal primo mattino il deciso ingresso di un'intensa ventilazione settentrionale favorisce ampie schiarite seppur disturbate dal transito di nubi medio-alte. Umidità su valori medio-bassi, venti dal primo mattino ingresso di venti intensi da nord, moderati a Levante, forti su centro Ponente, con raffiche fino a 65-75 km orari sui rilievi e capi esposti in serata, venti localmente forti anche a Levante. Mare inizialmente poco mosso in aumento fino a molto mosso da metà giornata a Ponente, mosso sul centro Levante. Segnalazione di protezione civile per vento forte da nord. Ed è tutto per questa edizione, grazie per il vostro cortese ascolto, Andrea Pomanti l'augurio di trascorrere una buona serata oggi, speriamo anche una felice domenica domani. Arrivederci. Audio shock, buffera su Casalino, ma il Movimento 5 Stelle fa a quadrato. DL sicurezza migranti, Salvini scatterà l'allarme, ma io me ne frego. Iran ha tentato durante la parata militare. Il Movimento 5 Stelle fa a quadrato attorno a Rocco Casalino dopo la diffusione di un audio in cui il portavoce del Presidente del Consiglio minacciava una mega vendetta nei confronti dei dipendenti del Ministero delle Finanze se non si fossero trovati i soldi per il reddito di cittadinanza. Parole inaudite secondo il segretario del PD, Martina, che chiede a Conte di allontanare immediatamente Casalino. Ma i pentastellati non ci stanno. Nel Ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro il cambiamento. Dopo l'approvazione del decreto sicurezza migranti scatterà l'allarme ONU, OSCE e Croce Rossa perché limitiamo i diritti. Ci saranno ricorsi e contro ricorsi, ma io me ne frego. Lo ha detto il Ministro dell'Interno Salvini durante il suo intervento ad Atreiu. Se la consulta dovesse porre dei rilievi al decreto ne discuterò amabilmente. Ha concluso. Continua a salire il bilancio dei morti provocato oggi da un attentato sferrato da un commando armato durante una parata militare dei Guardiani della Rivoluzione ad Avaz nel sud-ovest dell'Iran. Due dei quattro attentatori sono riusciti a fuggire, altri due sono stati invece uccisi. Sono tre gli anticipi di campionato previsti per oggi. Oggi si parte alle 15 con il match Parma-Cagliari alle 18, occhi puntati sul campo della Fiorentina che affronta la SPAL seconda e in classifica alle 20.30 il terzo match degli anticipi ex-Sampdoria-Inter. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Cronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.